In realtà, non vogliono muovere da qui, solo stanno in questo posto. Ciao, da dove sei? Da Bulgaria. Da ieri. Quindi giusto il ponte? Sì, sì, giusto due giorni. Da dove venite? Vasto. Da Poland. Austria? Perché sceglie Puglia e Bari? Perché... Perché il giro. Perché il giro? Sì, sì. Bari, 25 gradi, primo novembre e turisti come se fosse una giornata di primavera. Non ci credete? Ve lo facciamo vedere. Da Pregnana milanese, buongiorno. Ha deciso di passare questo ponte qui in Puglia. A dire il vero eravamo a Matera e stamattina abbiamo detto non ci possiamo perdere il mare della Puglia. No, no. Americano. Americano. Yeah, why you choose Bari? Ah, family. Family food. You have your family here? Well, where it comes from. Sì, grazie. I understand. But you are choosing some orecchiette. Yeah, yeah. Why? Pasta is so good. Where are you from? We are from Belgium. Why you choose Bari? Because it's nice here. Yeah. And the weather is good. The weather is good. And pasta too. Yes, food is also good. Oh. Le orecchiette le abbiamo comprate? Sì. Abbiamo comprato tutto. Le orecchiette, pure le cartellate e anche le... Le orecchiette come ha intenzione di farle? No, perché noi ci teniamo eh, mi raccomando. No, non lo so. Infatti era quello il problema. Canada. Yeah, why here in Puglia? Why in Puglia? In Bari. We love Italy. Yeah. We're from near Toronto. Can I tell you one thing? Excuse me. Ormai la Puglia abbraccia tutto il mondo. Evviva! Mama! I miss you, Mama! Hey! Oh! 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 Grazie.